Si torna in campo tutti di domenica con appendice a lunedì nel posticipo del partenio Lombardi tra Vellino e Bari, fotografia del turno numero 17 nel girone C di Serie C. I due pezzi forti sono collocati all'alba e al tramonto della domenica. Si parte con un mezzogiorno di fuoco al ceravolo di Catanzaro a sfidare i calabresi, freschi di arrivo di Vincenzo Vivarini in panchina e il foggia di Zdenek Zeman. Forti della coppia d'attacco Ferrante Curcio, 16 volte a segno in due, i rossoneri vanno a caccia di un altro successo dopo il 5 a 2 alla Vibonese. Vincere permetterebbe di scavalcare i giallorossi, oggi a più uno con i loro 25 punti ma in crisi di risultati. Dalla loro Peterman e compagni hanno il terzo rendimento esterno del raggruppamento. È un monopoli incerottato, quello che invece alle 20 e 30 farà visita al Palermo, obiettivo dei biancoverdi, reduci dalla vittoria di rigore contro la Paganese e difendere il secondo posto dall'attacco dei siciliani, oggi terzi a meno uno e accorciare le distanze dal Bari in attesa del posticipo del lunedì. Di fronte ci sarà un avversario arrabbiato, ferito dal KO per 1 a 0 sul campo del Picerno. Mentre la squadra di Colucci sarà ospite della Fidelisandria, alla stessa ora, 17 e 30, il Potenza affronterà al Viviani Laturris, formazione che ha interrotto il poker di vittorie consecutive con il KO casalingo contro l'Avellino. Fischio d'inizio in contemporanea per Taranto Messina, i rosso-blu di la terza si affidano al fortino Iacovone, dove sono arrivati sin qui 18 dei 23 punti per cancellare la sconfitta contro la Juve Stabia e rilanciarsi. Di fronte un avversario reduce da un poker di sconfitte, completa il programma la Virtus Francavilla, ottava con 24 punti e attesa dalla sfida casalinga contro un Monterosi in ripresa.